Dei 739 medici in servizio presso questa azienda, 16 medici lavorano nei dipartimenti assistenziali, mentre 17 di loro lavorano nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione. I medici del Dipartimento di Emergenza e Accettazione sono quelli che in prima battuta fronteggiano i pazienti affetti da Covid-19. Dei 17 medici malati del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, 4 sono affetti da patologie di lunga data, patologie croniche e gravi, altri 4 invece sono risultati positivi al tampone, al test per Covid-19. Quindi in realtà i medici che in prima linea sono chiamati a fronteggiare l'iridemia da Covid-19, ammalati in questo momento sono 9. A tutti e 3.200 dipendenti di questa grande azienda e che tutti i giorni sono al servizio dei pazienti va il mio più forte ringraziamento.